La grande sfilata storica, la sfilata storica dei quartieri con il quartiere dei comunali che precederà la sfilata. Le chiedine, perché non in loro suono, annunciano e introducono il corteo storico. Le chiedine ha seguito il gonfalone comunale attorniato dagli armigeri e dai pagi comunali che portano il documento storico del Palio dell'Oca. La mazza, simbolo del potere e le autorità comunali, in primo luogo il Gran Maestro, di cerimonia, il Gran Maestro di cerimonia con le autorità della legge. Sono il potestà con la dama, il tuca e la duchessa. Ed eccolo il Palio, portato dai pagi comunali, che è stato rimesso in palio quest'anno. In ogni dove regna l'emozione, per quanto seguirà nella giornata. Su via, correte tutti in piazza grande, che nel Cinquecento ha dato a Cagli fama e tanti onori. Riproponiamo a voi col corpo contento, perché a fratella vinti e vincitori. Allora... Allora... Sant'Angelo che deve ancora muoversi sul tabellone... 3... Casella libera. Torna alla 3 dove aveva sostenuto... Partiti! Parte Sant'Angelo velocissimo! Sant'Agostino prova a recuperare! Bellissima sfida! La sega va giù! Sfila giù! Sfila giù! Sant'Agostino recupera qualcosa! Sta recuperando Sant'Agostino! Sant'Andrea prova il gioco della corsa mista per rimanere in zona palio. Sant'Andrea... Sfila giù! Vittima! Icosa dice la scusa non si può d'amore! La scusa ma. Vanno a tratta! Vanno a tratta! Sfila giù! Icosa! Tommi! Sfila giù! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.